Il Camping Internazionale Il Camping Internazionale di Castelfusano, in quella fascia di macchia bellissima tra Ostia e Castelfusano, uno dei camping più belli di tutto il litorale. Si comincia con un buon caffè Palombini e ci serve il caffè Palombini stamattina per darci la forza e la carica. Siamo al quarto appuntamento del Roma Master Cross edizione sedicesima, anche Luca Lo, il nostro speaker delle manifestazioni, si gusta il suo buon caffè e si comincia così. L'organizzazione è curata dall'emporio del ciclo con Roberto Loreti che lascia l'attività di rivendita di bici al suo posto solito di spinaceto, ma conserva intatto con forza, con capabilità, con cipiglio quelle che sono le sue attività legate al mondo del ciclismo. Eccolo qua, il nostro Roberto Loreti dimagrito in maniera impeccabile, fisico, asciutto e deriva proprio dalla nuova attività che ha intrapreso. Siamo dunque tutti pronti, qui la famiglia Quattrini come sempre fa il cambio ruote, ci sono due ruote per due concorrenti, papà e figlio. E come vedete in gara 1 le ruote ce l'ha il figlio e in gara 2 le ruote ce l'avrà il papà. Tanti gli amici che ritroviamo ad Ostia e c'è anche il signor Picchio. Saluto il signor Picchio, saluto il signor Picchio, eccolo qua il signor Picchio, il miglior ciclocrossista che in Lazio abbia potuto rispornare negli ultimi 97 anni. Oh niente, è un'ora che sta a toccarmi, interrogato al morto, non risponde. Guardi io posso dare le cure, visto che lavora nel campo sanitario qua, non abbiamo problemi, mi dirò fuori così. Eh sì, Pippo Picchio è davvero terribile, è tornato con la sua verve, con la sua simpatia che ce l'ha fatto rispettare e conoscere per tantissimo tempo. Allora, un saluto anche a Picchio e noi andiamo a vedere gara 1. Un po' di mancanze e di defezioni ci sono, c'è il Giro d'Italia Cross nelle Puglie e tanti sono andati a cercare successo e merito. Questa è la microtelecamera piazzata sulla bici di Jeff Benato. Dovrete sapere che Jeff Benato corre con una contrattura vistosa alla schiena, frutto di ciò che è accaduto alla terza gara, quella organizzata da Fausto Scotti. Ha detto, la metto alla telecamera, però io faccio un paio di giri e poi mi devo fermare. Non ci sono serviti un paio di giri, vedrete che fine fa la microtelecamera, saltata via letteralmente dal suo manubrio e finita ovviamente in terra. Ma ve la raccontiamo con calma questa situazione perché merita. Intanto Jeff Benato davanti a Trovarelli e poi c'è Gatti in questo passaggio e poi Rocco Cavaliere, il quartetto dei migliori che va all'attacco dunque della gara 1 di questa quarta tappa del Roma Master Cross. Poi c'è il nostro tarallo che va ad inseguire e qui siamo alle fasi delle palanche. C'è il tratto nuovo disegnato da Roberto Loreti, un tratto che costringe a scendere tutti, sabbia per un bel pezzo di tratto e poi si risale in sella. E qui la nostra microtelecamera, come vedrete, fa i suoi buoni capricci. Ci prova Jefferson Benato ad allungare, i primi due giri li vuole fare in testa davanti a tutti, bici in spalla, si salta la prima palanca e adesso il tratto di sabbia. Come però la mano rimette posto sul manubrio, ecco che salta la microtelecamera che rimane in terra e continua a girare. Chi ci conosce attraverso la cronaca che abbiamo fatto in tante altre gare, ritornerà al pensiero di Pianello con una gara di mountain bike o con la telecamera che è rimasta accesa per due ore. Qui è rimasta accesa un pochino di meno. Il nostro amico Cacaito se l'è subito presa e messa da parte, ma intanto la microtelecamera ha continuato a filmare e è infilata in mezzo alla sabbia con queste inquadrature. E allora andiamo a vedere, grazie a Morbidelli per questa gentilezza che ci ha fatto di avvisarci che la microtelecamera era in terra e poi dopo averla raccolta. Andiamo a vedere dunque come sono le cose. Avete visto Jefferson Benato davanti al gruppo, dietro ci è subito Fabrizio Trovarelli. Fabrizio Trovarelli che nello spazio di un giro e mezzo va a prendersi la testa della corsa. Numero 9 per Fabrizio Trovarelli, World Track Team, categoria Cadetti. Dietro di lui con il numero 17 c'è Luca Quattrini. Luca Quattrini, l'avete visto, cambiare le ruote e adesso nella categoria Cadetti si fa questa seconda posizione. Ed eccolo, Trovarelli in testa subito con il passaggio numero 9, mentre la microtelecamera continua a regalarci il passaggio dei concorrenti che passano, bici comprese. La terza piazza per la categoria Cadetti è di Ludovico Cristini, numero 166. Intanto questo che avete visto con il numero 155 passare è Alessandro Pasquali. Poi c'è Gabriele Casonato, numero 228 della Speedy Sport, con il numero 159 Marco Lombardi, Emporio del ciclo. Il numero 107 per Simone Renzicchi, Team Bmed e Jefferson Benato che lascia correre gli altri. Lui si preoccupa soprattutto di non sentire la contrattura. Team Bmed anche lui con il numero 109. Mentre Trovarelli va avanti a tutta manetta, dietro di lui si fa strada Rocco Cavaliere, Drake Team Nv Sport con il numero 162. Lui non è andato in Puglia, è rimasto a correre con il Roma Mastercross a farsi onore. Non è il suo terreno sicuramente perché preferisce le piste con più possibilità di spingere sui pedali. Qui il percorso era davvero tortuoso, curva e controcurva, ripartenza e rilancio della bici. Qui lo vedete passare davanti a Jefferson Benato che ha quella contrattura alla schiena che vi abbiamo detto. Meraviglioso Fabrizio Trovarelli, davvero ha trovato una gran giornata. Lui è un uomo fatto per il ciclocross, lavora e il tempo per allenarsi ce n'è davvero poco. Il nostro cacaito, come vi ho detto, che ci ha avvisato della microtelecamera, orfano di Romanelli. Lo sentirete alla fine lanciare un video messaggio al nostro Romanelli e non c'è perché purtroppo un problema fisico lo tiene lontano dalle corse. Ma almeno lo vorremmo di tanto in tanto il nostro Vigile del Fuoco, Ruggero Romanelli, venire ad una corsa per farsi due chiacchiere con noi. Giovanni Gatti passa di nuovo a girare con una bici da ciclocross. Lo abbiamo gustato nella prova del trofeo Romano Scotti, del Memorial Romano Scotti alla Wellness Village e adesso torna a correre in questa gara di Ostia Castel Fusano. Nella categoria senior davanti c'è Vladimir Ottarallo, numero 114, team B-Med. Dietro di lui Alessandro Pasquali, numero 155, centro Italia Bike, cicli Montanini. Terza piazza per il numero 234, Enrico Mostarda, del team B-Med. Che sta andando davvero molto bene, devo dire, quest'anno Mostarda. Si sta dimostrando di essere ciclogrossista di razza. E poi Domenico Ponzo, numero 156, della PS Cycling Team. E segue Emiliano Morbidelli, numero 125, della Academy Fitness Civita Vecchia. Orfano, come abbiamo detto, di Ruggero Romanelli, ma ha trovato sempre qualcuno con cui attaccarsi per duellare. Dietro di lui c'è Marco Chialastri, numero 6, World Truck Team. Diego Mariani, del team Nappy Bike. Leonardo Angelini, del team Ladispoli. E Manuel Grotto, della Speedy Sport. Andiamo a vedere poi come sono le altre cose. Paolo Casconi, sezze ortopedica. Il suo team, classe 1966, Paolo Casconi, numero 19. Dietro di lui c'è Paolo Tempestini, l'MTB Santa Marinella. E poi Fabrizio Dionisi, numero 10, della Pro Bike Riding Team. Con Paolo Appodia, numero 115, team BMEB. Paolo Appodia oggi soffriva, non vi potete immaginare quanto. Intanto con il numero 18 è il giovane Casconi, che anche lui inizia a fare ciclocross. Allora, questa cosa di Paolo Appodia, che non è tra i primissimi posti in questa giornata, ve la dobbiamo raccontare. Sapete tutti che è morto il gatto Amintore la scorsa settimana, il secondo posto meraviglioso al Memorial Scotti l'aveva dedicato al suo gatto Amintore. E adesso c'è un nuovo arrivo, è l'arrivo di Carolina. È una gattina piccola, piccola, che ha bisogno di essere biberizzata. Ha un biberon con il quale bisogna alimentarla. E bisogna alimentarla una volta ogni due ore. Indovinate chi si è alzato una volta ogni due ore sabato notte per dare da mangiare alla piccola Carolina, alla nuova gattina di casa Appodia, proprio Paoletto. E allora, fino a quando non passa la situazione con la gattina Carolina, Paoletto Appodia se la deve sorbire lui e alzarsi una volta ogni due ore. Quindi ecco come è spiegata la situazione di vederlo in ritardo. E attenzione al nostro Fabrizio Trovarelli, il percorso è insidioso. Rami, alberi, radici in terra bisogna guidare con una certa attenzione. Ivano Libriani, numero 20, team B-Med. Dopo Paola Appodia, per quanto riguarda la categoria dei veteran, c'è Gianluca Marinucci, numero 40, Marco Fortunati, numero 111, che corre per la Bike Lab. E poi Marco Siviero, numero 75, dell'MTB Santa Marinella. Scorriamo la classifica per andare a vedere come sono andate le cose con il resto del gruppo. Nel gruppo c'è Rocco Cavaliere, Drag Team New Sport per la categoria Junior, davanti a Matteo Bianchini, Extreme Bike. Rocco Cavaliere corre con il numero 162, intanto con il numero 155, Alessandro Pasquali. Con il numero 143, Matteo Bianchini, dell'Extreme Bike. Davanti al numero 69, Gino Felici, dell'MTB Santa Marinella. E compagno di squadra, Marco Ciani Passeri, numero 32. Poi in quinta posizione, il numero 243, Tiziano Faiola, della Santa Anastasia. E Dario Baffetti, numero 81, del team B-Med. Ma Trovarelli è davanti a tutti, Quattrini, passa in questo momento con il numero 17. Sono le persone che ci fanno sicuramente piacere da seguire in queste giornate di ciclocross. Sono immagini che vi arrivano dal camping Castelpusano Ostia Internazionale, uno dei più bei campeggi della zona. Guardate dove vengono ospitate le tende e i camper sotto una macchia mediterranea meravigliosa. In più ci sono un'infinità di bungalow per tutte le occasioni e per tutte le famiglie. Dicevamo di questa situazione con Trovarelli davanti a tutti. Fabrizio Trovarelli, numero 9, che ha allungato nei confronti del gruppo. Non ha avversari in questa giornata, i 10 giri li compie in 59 e 26 e va dunque a prendersi la vittoria. Il piccolo Chiofalo l'abbiamo visto passare in questo momento. Per quanto riguarda la categoria senior, abbiamo detto Vladimiro Tarallo, numero 114, davanti ad Alessandro Pasquali, Centro Italia Bike, Cicli Montalini, numero 155, Enrico Mostarda, numero 234, del team B-Med. E poi abbiamo tutti gli altri, categoria Veteran, Paolo Casconi, numero 19, davanti a Paolo Tempestini, Santa Marinella, Fabrizio Dionisi, del team Pro Biker Riding Team e Paolo Appodio, numero 115, del team B-Med. Questi sono i protagonisti della tappa che vi stiamo raccontando, con tutta questa situazione che pian piano si compone e che vede sempre di più emergere un crossista di razza, come abbiamo detto, come Fabrizio Trovarelli. Al secondo posto della categoria cadetti c'è Luca Quattrini, con il numero 17 della Pontino Sermoneta. Sta andando davvero molto bene Luca Quattrini, l'abbiamo elogiato in più di una occasione. E la terza piazza è di Ludovico Cristini, numero 106 del team B-Med. Ancora un'inquadratura per la maglia tricolore di Fabrizio Trovarelli, che corre per i colori dell'Axain e poi il resto del gruppo. Cavaliere ci ha provato in tutti i modi per cercare di andare a recuperare lo svantaggio nei confronti di Fabrizio Trovarelli. Però non era il percorso che piaceva più a lui. Un percorso tortuoso, lo vedete, ricco di sabbia, dove si poteva spingere davvero poco. Bisognava guidare di grande attenzione. L'avete visto prima Fabrizio Trovarelli andare a prendere una radice dei corbezzoli che ci sono ricchi in questo camping internazionale di Ostia Castelfusano. Basta il minimo errore per andare in terra. È il percorso di Zena. C'è anche la curva Zena, la famosa curva Zena. Un percorso tortuoso, fatto di passaggi tra gli alberi. Qui non si può toccare un chiodo, non si può toccare un ramo. È tutto protetto per essere macchia mediterranea. E allora bisogna andare davvero da ciclocross. Un complimento va anche a chi ha vinto la categoria veteran, a Paolo Casconi, in silenzio, che comunque continua ancora a trovare il gusto di vincere. Una nottataccia per lui, per quello che ha fatto tra sabato e venerdì. Però ha voluto essere da Latina ad Ostia, portando anche il piccoletto e partecipando alla gara. Complimenti anche al nostro Loretty, che davvero ha fatto le cose in grande in una situazione di questo genere. Ma intanto braccia alzate per Fabrizio Trovarelli, che taglia il traguardo da vincitore di questa quarta prova del Roma Master Cross. E adesso le interviste. Ecco, abbastanza. A me proprio no. Tutte curve contro curve, non c'è stata possibilità di mettere un po' di rapporti. La sabbia non fa per me. Quest'anno non c'è più l'avversario? No, quest'anno Sanseo Romanelli, niente, non riesco a spingere, non riesco a... Non ci stanno gli stimoli. Non ci stanno gli stimoli. Speriamo che veda questo videomessaggio e venga almeno a vedere. Almeno uno stimolo. Almeno per dire di codica. Codica, qualcosa, un piatto di fagioli oggi, niente, niente, niente. Abbiamo parlato di freni a disco nella puntata precedente e finalmente vediamo il freno a disco all'opera. È sulla bici ibrida, come sempre, del nostro Borgi. È il primo comunque che sfoggia un freno a disco per quanto riguarda una bici, non certo la mountain bike, una bici più espressamente da ciclocross, anche se la sua è un'ibrida, è tutti a guardare questo freno a disco a sapere se funziona, se va bene, a che serve, a che non serve. Però sono convinto che i modelli nuovi che escono delle bici da cross, tutti quanti ce lo avranno, tra qui a poco. La stessa cosa si diceva nel mondo della mountain bike quando le prime mountain bike misero su il freno a disco, a che serve, questi che abbiamo già frenano, eccetera, eccetera. Poi alla fine le bici escono dai concessionari, tutti con il freno a disco. Intanto è partita gara 2, avete visto che Ciancarini va subito all'attacco e dietro di lui c'è l'altro quattrini, Mario, che è papà, quello che abbiamo visto arrivare secondo nella categoria cadetti. Angelo Ciancarini fa l'andatura in questo primo giro, doppia partenza, dunque per quanto riguarda gara 2 e Maria Adeletuia va subito all'attacco della categoria donne. Vi ricordo che siamo alla quarta tappa della sedicesima edizione del Roma Master Cross Ostia Castelfusano Camping Internazionale, percorso classico, uno di quei percorsi che da tre anni non viene cambiato e che piace molto alle persone che partecipano alla tappa. Qualcuno dice, sì, però ci vorrebbe un pezzettino in più di strada diritta. Era prevista la strada diritta su asfalto per dare il lancio, ma ancora non ci sono le autorizzazioni per poter sfruttare quel pezzo di strada e allora bisogna accontentarci di questa situazione. Angelo Ciancarini numero 90 con Quintarelli numero 56 in questo momento in quadrato. Angelo Ciancarini ha dovuto lasciare già il passo ad uno scatenato Mario Quattrini che va a prendersi la prima posizione. Poi Vanessa Casati numero 110, seconda nella categoria delle donne. Ci sono nomi nuovi che abbiamo visto partecipare alla Roma Master Cross e ci fa piacere che di tanto in tanto nomi nuovi arrivino. Eccolo qua, con il numero 16 arriva a tenere la testa della gara 2 Mario Quattrini della Latina Sermoneta. Andiamo subito a controllare come sono andate le cose, cominciando con i debuttanti. Adriano Mollicone, Emporio del Ciclo numero 158 con Federico Cimadon numero 78 della Wonderbike Pomezia e poi per l'Atletico Wisp Monte Rotondo Lorenzo Di Serafino numero 55 e Dario Latini numero 136. E poi c'è la Bicus con tre e i suoi concorrenti. Duccio Sarmati numero 101, Dario Birindeli numero 131 e Andrea Massimi numero 130. La categoria donne con il numero 167 avete visto davanti a tutti Maria Dele Tuia che adesso corre con i colori rosso e neri del Centro Italia Bike Cicli Montanini. Davanti al numero 110 Vanessa Casati del team Bmed. Per il Santa Marinella invece c'è Caterini Gheorghe numero 192 con la quarta piazza della Monica Vosse con il team Bmed. E poi Elisabetta Dani che torna a correre nel ciclo rosso con il numero 61, Santa Marinella cicli Montanini. Per la categoria delle ragazze più giovani Sara Sciuto numero 173 Punto Bici Aprilia la figlia del grande Sciuto che salutiamo. E poi Claudia Mazzetta della ottava legione romana con il numero 30. Avete visto passare ancora una volta Angelo Ciancarini, ce l'ha messa tutta per cercare di andare a recuperare la fuga del nostro quattrini. Bel numero di concorrenti, 125 gli iscritti nonostante che la notte ci sia stata pioggia. Il percorso è perfetto, sabbia e tufo che non dà assolutamente problemi. Intanto c'è anche Stefano Carnesecchi che torna anche lui insieme a Elisabetta Dani a correre. Dopo le 24 ore si ritrovano insieme anche nelle gare di ciclocross. Categoria esordienti, diamo uno sguardo come sono andate le cose. Mario Zaccaria numero 139 dell'Atletico Wisp Monte Rotondo. Con alle spalle Michael Menicacci numero 121 della Soriano Ciclismo. E poi con il 68 Manuel Pacchiele della Sermoneta Pontino. Con il numero 76 Alessandro Parpinelle della Latinense Bike. E poi Alessandro Bianchi numero 202 Atletico Wisp Monte Rotondo. Seguono Paolo Rodilosi della Cycling Team Coratti. Giulio Mosaico della Latinense Bike. La gara come dicevamo vede in testa Mario Quattrini numero 16 Pontino Sermoneta. Categoria Gentleman con il tempo di 49, 29 e 39. Angelo Ciancarini è sempre lì attaccato. Perde qualche cosa giro dopo giro ma non ha smesso mai di crederci. Numero 90 per Angelo Ciancarini Team Bmed. La terza posizione per Mauro Gori della Bike Shop Pedalando davanti a Filippo Chiofalo numero 138 della Bike Shop Pedalando anche lui. E poi Fabio Pisanelli numero 64 del Santa Marinella Cicli Montanini. Con la sesta posizione di Luciano Stanganelli della Cicli Montanini davanti a Luigi Onofri Santa Marinella. E poi Ciro Tamorri dell'Officina Alimentare Bar Bova. C'è una cosa da ricordare. Manca Borgi come vedete dalla classifica. L'uomo del freno a disco. Beh ha messo il freno a disco però il problema non era il freno a disco era la scarpetta. Voi pensate che è venuta via direttamente la suola della scarpetta dove c'è l'attacco. Praticamente è rimasto l'attacco sul pedale e l'intera scarpa è venuta via. Si è fatto il buco, il vuoto. Abbiamo cercato di capire come potesse essere successa una cosa di questo genere. Nessuno sa dare una spiegazione. C'è una piastra sotto, ci sarà tutto quello che voi volete ma il buco con l'attacco è rimasto. Per quanto riguarda la categoria Gentleman abbiamo detto Mario Quattrini la vince davanti Angelo Ciancarini con Mauro Gori in terza posizione. Quattordicesimo Michele Rubeis team Bmed davanti a Massimo Gori dell'Impredil e Stefano Carnesecchi con il numero 60 del Santa Marinella. Andiamo a vedere anche le altre classifiche con la primavera Alessandro Castagiola numero 147 classe 1999 chiude con il tempo di 56.07 numero 147. E poi abbiamo nella categoria Super Gentleman a Luciano Quintarelli della Track Team NW Sport che dopo aver fatto in silenzio fotografie per capire quali possono essere i suoi avversari più importanti e alla fine già dalla gara di Roma con il percorso alla Wellness Village si è presentato finalmente a correre. Ha capito quali erano i suoi avversari, li ha fotografati, li ha scrutati ed è arrivato subito a vincere. Il tempo finale per lui 52.35.53 dietro c'è Mario Matteucci del team Bmed con il numero 112 e poi Pio Tullio team Bmed con Antonio Giardino suo compagno di squadra e poi ancora per il Bmed Marco Crescentini e Tiziano Santini. Nella Super Gentleman B, Vincenzo Cestra numero 221, classe 1947, dobbiamo dirlo perché qui andiamo sul vero sport del ciclismo. Coloro che fanno le gare e che se la sentono dentro. Classe 1947 per Vincenzo Cestra numero 221. Laurindo Casaccia numero 50, classe 1942. Giuseppe Calandrini, classe 1940, numero 95, in terza posizione. E poi li tralascio tutti gli altri perché ci sono Diego Cedroni con il numero 184 della Center Bike. Mario Giannoni che disegna sempre i percorsi del Roma Master Cross della Polisportiva Icaro numero 181. Vittorio Emili, classe 1939. Togliamoci il cappello nei confronti di Vittorio Emili, numero 119. E poi, che non può mancare mai, Ettore Bucci, il numero 183 della Polisportiva Morandi. E qui siamo alla chiusura con le braccia alzate per Mario Quattrini. Bravo Mario, complimenti la sua vittoria. Per lui il primo posto, secondo posto per il figliolo. E poi arriva anche Angelo Ciancarini. Manca Maria Dele Tuglia che vince a braccia alzate. E adesso ce ne andiamo tutti alla premiazione. Questo è il camping, sono i bungalow, il ristorante. E questo è ciò che abbiamo mangiato. Della deliziosa pasta e fagioli che fa invidia. E lo so, qui non è ammessa la vergogna di mangiare. Non si può dire che abbiamo rinunciato a mangiare chi uno, chi due, chi tre piatti. La cosa più importante era assaggiare questi fagioli con la pasta. Pasta all'uovo, quadrucce all'uovo. Deliziosi e buoni. Anche il nostro Santini, vedete come riesce a gradire. Non vi dirò chi ne ha mangiati tre piatti. Lo scorso anno sorpresano a me con tre fotografie e tre piatti diversi. Quest'anno non vi posso dire chi ne ha mangiati tre. Queste sono le premiazioni. Facciamo i complimenti dunque al camping internazionale di Ostia Castelfusano. A Roberto Loreti perché è stato davvero prezioso. E anche a chi mette la zeppa per la premiazione con il primo posto. Ah, è la Maria delle Tuia, detta Mombrachen perché ha la grinta da vendere come la tigre del Bengala, come il famoso Sandogan. E qui c'è la famiglia Tarallo che cresce. Buona, buona, buona la pasta e i fagioli. E allora, chiudiamo. Ho attraversato. Ho tagliato, vedete il circuito in meno. Paolo Casconi. C'è anche lì c'è provato in tutti i luoghi. Eh, ci sono uscito prima però. C'è un'altra traversa che lui non conosceva. Vediamo la premiazione. Vecco Paolo. Il corso duro. Sì, duro e in tutte curve. Quindi era faticoso, era rotta nella ripartenza. Allora, a parte amici che ho qui dentro, insomma, il posto si presta in maniera eccezionale. Piove, nevica, c'è sole, c'è tutto. Ovviamente il posto all'ombra, il tufo e sabbia praticamente, quindi drena benissimo il terreno. Visto che fino a ieri sera, a mezzanotte, siamo stati qua. Poi abbiamo desistito perché non era possibile assolutamente portare avanti nulla. Diciamo che il percorso ormai l'abbiamo sviluppato su 2400 metri, quindi il minimo indispensabile. Non abbiamo avuto anche quest'anno la possibilità di usufruire della parte esterna, diciamo, di un tratto d'asfalto per poter fare un ulteriore allungamento del percorso. Pazienza, aspetteremo il prossimo anno, però la cosa va benissimo anche perché dolce, bar, ristorante, leccio che è presente qui dentro, insomma, c'è tutto. La location è eccezionale, quindi non si può chiedere di meglio, penso. Pazienza, aspetteremo il prossimo anno.